A distanza di pochi giorni dal rilascio della nuova collezione di carte a tema One Piece in onore del suo 25esimo anniversario Panini ha deciso a sorpresa di pubblicare sul suo sito circa una settimana fa un nuovo annuncio Nuovo annuncio, nuova collezione, sempre di carte E lo ha fatto tramite un treasure box Ovvero un box per collezionisti con all'interno alcuni pacchetti di questa nuova collezione e qualche ninnolino qua e là Purtroppo non saranno disponibili i pacchetti per questa collezione ma sarà disponibile soltanto questo treasure box Quindi ho fatto un video dedicato proprio a questa cosa qualche giorno fa, insomma il giorno in cui è stato fatto l'annuncio E la vostra risposta nei commenti in privato, in qualsiasi formessa sia stata, non è stata proprio delle migliori Sia per il prezzo che di 100 euro, sia per proprio quella che sembra essere la qualità delle carte e tutto il resto Quindi a Lucca Comics and Games 2024, a cui sono stato per un paio di giorni Ho avuto modo di vedere, di toccare con mano queste carte E quindi ragazzi ho deciso di comprare uno di questi treasure box e di portarlo qui per fare l'unboxing insieme a voi Questo è il treasure box e quindi vediamo se effettivamente i timori che c'erano stati dopo quel video dedicato alla settimana scorsa sono fondati oppure no Ed eccoci qui con il treasure box, dalla parte frontale abbastanza anonima Uno sfondo bianco e poi i volti dei membri della ciurma in questi rettangoli colorati, ognuno con un colore diverso Nella parte posteriore del box vediamo un pochino il contenuto che dovremmo trovare all'interno Quindi delle card, dovrebbero esserci tre bustine da dieci card base Poi una bustina invece con delle card parallel Poi troveremo queste pergamene, una sola almeno, i soggetti che possiamo trovare saranno due Quindi costringendoci comunque a prendere più di un box E poi la icon card, qui la chiamano medaglion card appunto con la moneta che potrà essere argentata o dorata Se siamo più fortunati perché ne esistono soltanto mille esemplari What are we waiting for? Che cosa stai aspettando? Probabilmente carapanini che abbassi un po' i prezzi Il contenuto di quello che sto per unboxare ragazzi è di 100 euro il prezzo di questo treasure box Apriamolo insieme perché sono totalmente in blind Ragazzi, avevo anche detto nel video che probabilmente non l'avrei preso Però mi si è presentata l'occasione di farci un contenuto E quindi siccome molti di voi erano curiosi Ho detto va bene, lo prendo e lo porto sul canale Quindi questo era un foglietto, non faceva parte del back Che invece è semplicemente bianco con la nave E quindi andiamo ad aprirlo insieme Cerco di fare attenzione perché comunque per quanto Non so quanto effettivamente potrebbe valere in futuro un box del genere Ci tengo a conservarlo il meglio possibile Nella parte interna c'è questo disegno Di Luffy Gear 5, Gear 5, One Piece in alto Bellino E andiamo a vedere il contenuto Intanto sono molto fortunato a quanto pare Non so effettivamente quanto lo sia Moneta d'oro Quindi uno dei mille esemplari di moneta Scusate il riflesso della luce Cerco di metterlo in questo modo per non darvi fastidio Quindi come vedete è sigillato Non so probabilmente si potrà aprire Ma bisognerà togliere questo sigillo Quindi cosa che per il momento non farò C'è questa carta Ah c'è anche la parte posteriore C'è la carta con la moneta Mi sembra una cosa molto semplice Però dai non male Abbastanza rigida Non vedo graffi o segni di imperfezioni Diciamo Non penso di aprirla ragazzi Penso di lasciarla così per il momento Vabbè comunque Una delle mille monete Me la sono portata a casa Sono abbastanza contento Poi quindi andiamo a vedere la pergamena Prima di vedere le card Pergamena mi sembra Una cosa normalissima In realtà non è pergamena Ma è semplice foglio di carta Quindi questo è uno dei due soggetti One piece E la carta ragazzi Adesso non vi so definire se è carta pergamena o meno Ma non mi sembra Sembra una cosa molto easy Molto tranquilla Niente di particolare Se volendo si può appendere Non c'è un qualcosa per appenderlo Niente insomma Secondo me Secondo i miei gusti personali ragazzi Roba molto trascurabile Poi Vediamo Questi sono i pacchetti Credo delle card base Dalla colorazione E questo invece Quelli dove ci saranno le parallel Dovremmo trovare tre parallel Di cui una dovrebbe essere numerata Quindi Mettiamo via il box per il momento E cominciamo Lo spacchettamento Dei pacchetti normali Intanto ragazzi Devo dire che sono molto doppie Quindi io l'ho vista anche Di persona Queste carte Ed effettivamente Sono abbastanza doppie Quindi Insomma Non sono proprio della qualità Mediocre A cui spesso Purtroppo Ci ha abituato panini Allora Intanto mettiamo via le bustine E vediamo La prima Vedo come al solito Comunque spigoli vivi Niente Arrotondamenti La prima Tanto ci sono sette categorie di carte Questa dovrebbe essere La Jolly Che è una delle Sette categorie Sfondo Che è Olografico Leggermente Con il Jolly di Asop In questo caso Poi C'è La Carta Silver Questa è di Chopper Quindi con il Vettangolo che troviamo anche nella parte Frontale Un'altra carta Jolly Stavolta è quella di Frankie Va bene Poi abbiamo Poi abbiamo queste carte Che sono Chibi Quindi con i personaggi Chibi Questa è Nico Robin La fattezza delle carte Ragazzi Io vi posso dire che sono Abbastanza spesse Quindi comunque la qualità è abbastanza buona Per l'olografia Oddio Per il momento Quelle che ho visto adesso Non sono niente di particolare Mi ricordano un pochino Le carte Le Kaiou Diciamo Di Naruto Che quelle hanno un'ottima qualità Però costano anche probabilmente 10 volte meno Poi questa è una carta Wanted Quindi con Frankie In questo caso E qui una carta Che dovrebbe essere la Character Se non mi sbaglio Quindi la carta personaggio Vediamo se sul retro c'è scritto qualcosa No Comunque la carta numero 30 Qui abbiamo Jinbei Anche qui Illustrazione abbastanza basic Carta sempre abbastanza rigida Illustrazione piuttosto basic Con un artwork E uno sfondo Altra carta wanted Con Nami In questo caso Quindi andiamo a mettere insieme le wanted Questa è una carta Invece Che dovrebbe essere La power Se non mi sbaglio Si chiama power E questa è un po' più carina Perché abbiamo uno sfondo nero Un effetto rosso Poi questo contorno Diciamo interno Dorato E le scritte I kanji dorati E ovviamente Poi il solito artwork Ok Poi abbiamo Quest'altra carta Di Nico Robin Che adesso ragazzi Ve lo dico Se sono le character card Credo Di Nico Robin Quindi anche qui Uno sfondo un po' particolare Con dei motivi Con dei motivi Sullo sfondo E poi Un'altra sorta di cornice Con l'artwork Al suo interno E l'ennesima Carta wanted Per il momento Mi sono contento Che quantomeno Non ci siano Doppioni Non lo so Non lo so ragazzi Non lo so Sinceramente Sono delle carte carine Oddio Poi molti di voi Esperti di carte E quant'altro Mi distruggeranno Magari nei commenti Soltanto perché Ho detto Che sono carine Però Dai Non sono proprio Male Come sembravano Almeno Dall'anteprima Del sito Qui abbiamo Intanto Due Jolly Un'altra Carta Con questi rettangoli Robin Poi abbiamo Asop In versione Cibi Non c'è Comunque ragazzi Devo dirvi Che non c'è Un raccoglitore Poi abbiamo Frankie e Luffy Queste già Mi piacciono Ma comunque Ragazzi Parliamo sempre Di artwork Così Poi abbiamo La carta power Di Asop La carta Character Di Sanji Cerco di andare Un po' più veloce Ragazzi Perché non voglio Portarvi via Tanto tempo Oh bellissime Queste Mi piacciono Frankie E Luffy Gear 5 Molto belle Queste Mi piacciono Mi piacciono Ragazzi A miei gusti Personali Sempre Delle carte Magari Se siete Abituati A quelle Del Tcg Probabilmente Mi direte Ma che sta Dicendo Sto scemo Probabilmente Avete ragione Però Io vi dico Sempre In base Agli standard Panini Di questo Di questo Di questo tipo Di carte Qui Poi Bandai Secondo me Continuo a pensare Che sia di un'altra Categoria Per le carte Altra categoria Altro prezzo Di solito È quello che dico In questo caso Ragazzi Invece Il prezzo È un pochino Altino Secondo me Continuo a dirlo E non ho cambiato Idea Poi abbiamo Un altro Jolly Per fortuna Non voglio dirlo Adesso Ma per fortuna Fino adesso Mi sembra Nessun doppione Sempre Brook La Cibi Di Zoro Abbiamo Anche Chopper Questo è un altro Cibi Immagino Poi abbiamo Un'altra Cibi Questa non so se è Considerata una Cibi Ragazzi Non c'è scritta La categoria Comunque La 39 Dovrebbe far parte Credo che siano Ogni 10 No Allora probabilmente No Vabbè Comunque la metterò In questa categoria Poi abbiamo La Character Di Zoro Che era qui Mi sembra che Questa già L'avevamo trovata No Bene Quindi abbiamo La wanted Di Asop E poi Abbiamo La wanted Di Zoro Bellissima E Bellissima Oddio E la Character Di Frankie Quindi queste Sono tutte le carte Che ho trovato All'interno Di un box Ora non ci resta Che aprire Questo qui Che dovrebbe Essere Il pacchetto Contenente Le parallel Che dovrebbero essere Fatte in Un materiale Differente Vedo già Molto Lucchichio Vediamo un pochino Che cosa Riusciamo a trovarci Oh Ecco qua Quindi Avevo già La Nico Robin Normale Quella base E questa E questa è la Parallel Quindi vediamo Questa Questo effetto Lucchichio Particolare Non lo so Non vi so dire Non è proprio Un granché Secondo me Poi Abbiamo anche In questo caso Guarda casa Era la prima Una versione Differente Questa Olografia Diciamo Questo effetto Con queste linee Che sembrano Tridimensionali Delle linee Orizzontali Anche qui Niente di particolare E poi Nami Che invece Non avevo trovato E quindi Questa mi sembra Piuttosto simile A quelle base Non vedo Una grande differenza Alcune dovrebbero essere fatte Di un materiale Differente Forse è quello Vediamo un attimo Non lo so ragazzi Sinceramente Non vi so dire Comunque Questo era Il contenuto Del Pack Del Treasure Box Adesso Andiamo un attimo Spostiamoci di là Per delle Conclusioni Su quello Che abbiamo appena visto Quindi ragazzi In conclusione Dopo questo unboxing Sono più confuso Di prima Ho trovato la moneta d'oro Bene Uno su mille Esemplari Sarò probabilmente Uno dei dieci Che acquisterà Questo box Quindi Mi posso ritenere Fortunato Non lo so E poi Le carte Le carte Sono delle carte Si nota la differenza Con quelle del 25 Anniversario Ben più Economiche Ben più Di qualità Ben più Bassa Ok A livello Tattile A livello Di rigidità E tutto Le illustrazioni Sono sempre quelle Cioè Sono delle illustrazioni Molto basiche Come dicevo Anche nel video Anteprima Quando è uscito L'annuncio Quando ci fu La notizia Mi sembrano Carte molto basiche Con i soliti Artwork Con degli sfondi Un po' più carini Un po' più curate Per alcune cose Ma Sono delle carte Molto comunque Panini style Quindi ragazzi 100 euro Li vale Questa è la domanda Che mi farete Probabilmente tutti Secondo me No La pergamena Anche non è altro Che un foglio di carta Arrotolato E quindi ragazzi Non lo so Io Ovviamente Quello che sto facendo Cioè farvi i video Serve solo a quello Non solo a dirvi Cose bellissime Oh mio dio Compratelo Perché è bellissimo Ma serve anche A dirvi i difetti Io cerco sempre Di essere trasparenti In tutto Secondo me Queste carte Sono carine Per un collezionista Affezionato a One Piece Che vuole acquistare Questo box Per tenerlo sigillato Magari Può essere Un consiglio Che posso darvi Se volete Unboxarlo Dovrete sapere Che potrebbe Essere Un po' Una delusione O magari no Va un po' Anche a gusti personali Nel mio caso Ragazzi Non posso dire Di essere deluso Perché comunque Sapevo più o meno A che cosa Sarei andato incontro L'ho preso appunto Per mostrarlo A voi E niente Quindi non so Se continuare La collezione Questo fatemelo sapere voi Se vi può interessare Cercherò Di portare La collezione completa Magari Posso prendere Un altro box Un altro paio E vedere un attimo Come va la cosa Non esiste Un raccoglitore Dove mettere queste card Non so se poi I panini Lo farà uscire In un secondo momento Per il momento Ragazzi Questo è tutto Quello che posso dirvi Quindi ragazzi Il video vi è piaciuto La collezione Non lo so Ma se il video vi è piaciuto E se volete Quanto meno Ripagarmi Di quello Dello sforzo Che ho fatto Per questo box Ovviamente sto scherzando Mettete mi piace al video Iscrivetevi al canale Se non l'avete fatto E vi invito anche A seguire gli altri contenuti Dello stesso Perché c'è tanta altra roba Non solo a tema One Piece Ma al tema nerd In generale Tra action figures Carte Collezioni varie Eccetera Quindi ragazzi Scatenatevi qui sotto Nei commenti Con tutta tranquillità Mi raccomando Per favore E fatemi sapere Cosa ne pensate Della raccolta Delle card Dei prezzi Di tutto il resto Ok? Adesso io vi saluto Ci vediamo come sempre A un prossimo appuntamento Ciao ragazzi A presto Ciao ragazzi